Sta per iniziare l'incontro intitolata Mafia Republic, intervengono Gaetano Dattu e John Dicchi. Buona storia a tutti. Buon pomeriggio, grazie per essere venuti. In questo incontro cercheremo un po' di tracciare quella che è stata la storia delle mafie con quella che è stata la storia d'Italia e in generale con la storia europea e globale. Vi presento John Dicchi, professore all'University College of London, da dove lavora dal 1993. Su questi temi ha scritto Cosa Nostra, storia della mafia siciliana, onorate società, l'ascesa della mafia, della Camorra e dell'Andrangheta e recentemente Mafia Republic, da cui prende nome l'incontro di oggi. Allora John Dicchi, per iniziare la discussione vorrei partire da questo. Io penso che molti di voi quando vanno all'estero gli viene fatta la domanda di che cosa è la mafia, dove è nata la mafia, perché la mafia, come italiani anche se siete qua di Gorizia sono sicuro che a molti di voi questa domanda è stata fatta. Io ricordo per esempio una volta mi trovavo in una conferenza a Manchester e c'era uno storico della Namibia che mi ha chiesto ma che cos'è la mafia? E io ho cercato un po' di spiegargli che cos'era questa mafia e lui mi ha detto ma allora è una specie di capitalismo senza regole, quello che vedo anche qui in Africa che viene fatto con lo sfruttamento delle risorse, ho detto beh no effettivamente non è proprio così, anche perché la mafia ha una storia. E allora John questa storia da dove comincia secondo te, al di là dei miti? La storia della mafia paradossalmente, cioè come tutte le storie, viene raccontata guardando indietro e la storia della mafia siciliana innanzitutto perché è un po' il modello di tutto, inizia nel 1992, non voglio dire che la mafia non esisteva prima del 92, voglio dire molto semplicemente che in quel momento abbiamo tutte finalmente, dopo 150 anni di storie d'Italia e di storie della mafia abbiamo le informazioni necessarie per scrivere la storia della mafia, non a caso la prima vera storia della mafia scritta in italiano con criteri scientifici, esce nel 1993 il lavoro di Salvatore Lupo perché il 92 è l'anno delle stragi, è l'anno della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ed è l'anno soprattutto della sentenza della Cassazione che è il motivo essenzialmente per l'omicidio di Falcone e Borsellino, la sentenza della Cassazione che conferma il verdetto del maxiprocesso di Palermo, che conferma essenzialmente l'esistenza della mafia, prima di quel momento almeno a livello giudiziario non esisteva la mafia, non aveva un profilo chiaro e in effetti si sentiva, è già difficile per uno straniero, per molti italiani capire cos'è la mafia adesso perché sulla mafia, sui quotidiani si sente tutto è il contrario di tutto, prima del 92, prima del maxiprocesso era ancora più complicato, il negazionismo era normale, era il punto di partenza della sociologia, della storiografia in materia, la mafia come organizzazione, mafia siciliana come organizzazione non esiste, è un'assurdità, nessuno ci credeva ed è appunto soltanto con il cosiddetto teorema Buscetta, con il maxiprocesso, con le indagini di Falcone e Borsellino, che cominciamo per la prima volta a capire la mafia siciliana come organizzazione ed è soltanto in quel momento lì che alcuni storici pionieri, possiamo dire, della storia della mafia cominciano ad indagare, a guardare indietro, a cercare questo oggetto mafia che era stato appena definito bene per la prima volta e guarda caso trovano prove negli archivi spesso molto chiari che dimostrano una spaventosa continuità nella storia di questo oggetto mafia, dimostrano che la mafia siciliana affonda le sue radici nel momento dell'unità d'Italia, la mafia essenzialmente è un sottoprodotto, è il cascame della violenza che porta all'unità d'Italia ed è il rettaggio in qualche senso dell'unità d'Italia e io ho cominciato a scrivere, ad occuparmi di mafia, già mi occupavo diciamo di mafia come ricercatore, parte della mia tesi di dottorato è stato sull'inchiesta di Franchetti e Sonnino degli anni settanta dell'ottocento, una delle prime inchieste sulla mafia, però ho cominciato ad occuparmi di mafia diciamo come divulgatore soltanto intorno all'anno 2000, quando mi sono reso conto appunto quando mi sentivo di fare delle domande come venivano fatte a te, no? Cos'è questa mafia? Non soltanto diciamo all'estero ma anche in Italia, per il lettore di Torino e Trieste questo oggetto mafia era rimasto ancora un oggetto abbastanza vago, è tutta la storia che ha il suo culme, il suo momento più tragico, drammatico nel 92, era sconosciuta, quindi ho cominciato ad occuparmi a raccontare questa storia proprio per questo motivo, per dare una risposta chiara a queste domande e far capire, perché mi sembrava importante anche in senso civico, far capire questa storia ai non addetti ai lavori, perché per leggere le cose che erano state scritte fino a quel momento bisognava diciamo essere molto emersi dentro l'argomento. All'origine della mafia ci sono anche dei miti, uno dei miti che per esempio circolano in Sicilia è questo del legame con i Beati Paoli, di questa organizzazione secreta che era quasi una portatrice di giustizia ma che è un mito che nasce da un romanzo d'appendice pubblicato nel 1909 se non sbaglio. Anche prima ci sono versioni. Ah ecco, esatto. Ecco, tra questi miti insomma c'è un fondo di verità tra i miti per esempio dei Beati Paoli di queste organizzazioni segrete precedenti. No, questi miti sono miti, però hanno comunque un loro significato, cioè una loro importanza storica molto significativa. Cioè che una delle tante cose che distingue la mafia siciliana da una banda di criminali qualsiasi è proprio un senso della propria storia, un senso di continuità del tempo. I mafiosi, e adesso li possiamo sentire nelle intercettazioni, sono molto consapevoli di essere portatori di una storia lunga, di avere dei nonni mafiosi, di avere, e poi esprimono anche questa loro storicità, se vogliamo dire, anche attraverso dei miti, le origini medioevali, Beati Paoli e quant'altro. Sono delle storie, possiamo dire, delle narrazioni identitarie, danno identità alla mafia. Lo stesso discorso vale anche per l'Andrangheta, anche l'Andrangheta ha il suo mito fondatore dei tre cavalieri spagnoli che dopo aver vendicato un disonore fatto alla sorella, si nascondono sull'isola di Favignana, questi cavalieri si chiamano Ostro, Mastrosso e Carcagnosso, passano 27 anni a inventare le regole dell'onorata società a Favignana, poi se ne vanno uno a fondare la Camorra a Napoli, l'altro a fondare la mafia siciliana a Palermo e l'altro il terzo se ne va in Calabria a fondare, a dar vita all'Andrangheta. Quindi questo mito ovviamente non c'entra niente con la realtà storica, però ci dice moltissimo sull'importanza di un senso di storia alle mafie. E anche di una continuità, se vogliamo, tra generazioni. Torniamo un attimo a quel momento fondativo intorno all'Unità d'Italia. Se non sbaglio in uno dei tuoi libri parli anche del ruolo avuto dai camorristi nella presa di Napoli con Garibaldi. Quindi potresti dirci qualcosa di più su questo periodo tra i mille e i primi anni di vita del Regno d'Italia? Che ruolo ebbe la mafia e anche il rapporto tra la mafia e le élite locali nel contesto della unificazione italiana? Ok. Le mafie, e in questo caso stiamo parlando soprattutto di camorra e mafia siciliana, perché l'andrangheta nasce dopo, l'andrangheta esce dal sistema carcerario negli anni 80 e dell'800. Questo sembra più o meno chiaro. L'andrangheta arriva più tardi. Le mafie nascono da un processo di contaminazione. L'Unità d'Italia, soprattutto nel Sud Italia, si fa attraverso la cospirazione, no? Perché il Regno delle Due Sicilie è una monarchia assoluta. Per fare l'Unità d'Italia bisognava fare una rivoluzione. Bisognava abbattere uno stato. E i giovani, erano soprattutto giovani, che volevano fare l'Unità d'Italia, unire il Sud Italia ad una nuova realtà politica italiana. Quando cospiravano, adottavano molto spesso il modello della massoneria, il modello della società segreta. Non vuol dire che erano necessariamente massoni, perché la massoneria era stata messa a bando essenzialmente. Comunque era quello il modello, il modello massonico, società segreta, riti d'iniziazione, miti storici. Perché era un ottimo modo per garantire la segretezza, l'affidabilità degli altri affiliati. Perché è pericoloso. E questi cospiratori patriotici avevano bisogno anche di un braccio armato. Perché la rivoluzione è un affare serio, violento. E molto spesso trovano questo braccio armato nel sistema carcerario. O diciamo fra i personaggi più violenti della campagna attorno a Palermo, per esempio, che è il focolare delle rivoluzioni in Sicilia. E questi tipi violenti, questi criminali, vengono affiliati a queste organizzazioni segrete. E da lì nasce quindi una società segreta che unisce il futuro elite dell'Italia Unita con dei criminali essenzialmente. che i criminali che è il momento dell'unità sia a Napoli che a Palermo diventeranno poliziotti, diventeranno la guardia nazionale, i militi a cavallo. Situazione della polizia dopo l'unità d'Italia è incredibilmente complicata. Si prestano dunque a servizi di violenza a favore del neonato stato italiano. Non perché sono stati convertiti alla causa dalla Patria, perché per un criminale fare il poliziotto è un sogno, no? Puoi fare di tutto. E questa alleanza dunque tra una società segreta che unisce l'elite e i criminali, che tende a farsi stato in qualche modo, ad infiltrarsi nelle istituzioni. E' un modello che nasce con l'unità d'Italia. Poi i servizi di questa mafia vengono utilizzati anche da diversi elementi, si prestano diversi tipi di servizi, vengono anche combattuti. La situazione è molto complicata. Ma nell'essenza la situazione è questa. E successivamente nel periodo delle guerre contro il brigantaggio questo rapporto si rafforza, immagino? Il brigantaggio è un'altra cosa, è essenzialmente un'altra realtà. Basti pensare che in Calabria, per combattere il brigantaggio si crea la cosiddetta legge PICA nel 1863. La legge PICA stabilisce che i crimini legati al brigantaggio non devono essere processati in tribunali militari dall'esercito. E molte province vengono, sempre nell'ambito di questa legge, molte province ne vengono dichiarate in stato di brigantaggio. E se una provincia è in stato di brigantaggio, allora si possono usare i tribunali militari. In Calabria, una delle pochissime, praticamente l'unica provincia che non viene dichiarata in stato di brigantaggio, è la provincia di Reggio Calabria, che è la culla dell'Andrangheta. E' un'altra cosa. Cioè il brigantaggio è legato ai latifondi, a altre realtà, geograficamente, a altre realtà. Mentre le mafie sono legate, per esempio, ad un'agricoltura d'esportazione, un'agricoltura molto pregiata. Sto pensando soprattutto agli agrumi. I giardini degli agrumi, che sono appena fuori le mura di Palermo, ormai fanno parte dell'area urbana di Palermo. Ma questi quartieri ormai malfamati di Brancaccio, Deluditore, così via, che sono i nomi di famiglie mafiose, delle famiglie mafiose storiche di più lunga durata, erano immersi nei giardini degli agrumi all'epoca. Allora, che centrano gli agrumi con la nascita della mafia? Essenzialmente, mentre il brigantaggio tende a nascere in un'area di povertà rurale, le mafie vere e proprie, sto pensando di Andrangheta e mafie siciliana, nascono in aree di relativa ricchezza. A metà dell'Ottocento i giardini degli agrumi di Palermo, pensate, sono per metro quadro il terreno agricolo più redditizio d'Europa. Così si calcola l'epoca, non è una realtà povera, perché questa agricoltura è pregiatissima. I limoni servono per l'industria e l'acido citrico che serve, ma poi vengono anche esportati per condirci l'insalata a New York, a Londra e così via. Però sono un prodotto agricolo pregiatissimo e sono anche un'industria ad alto investimento per mettere su un giardino degli agrumi. è un investimento notevole, piantare l'irrigazione, i muri necessari per proteggere gli alberi dal vento. Per diventare ereditizio un giardino degli agrumi ha bisogno di qualcosa come otto anni in quell'epoca storica. Il che rende molto vulnerabile questo investimento all'estorsione, ad atti vandalici, a chi ha il potere sul territorio di controllare l'accesso alle acque. Infatti molti dei primissimi mafiosi sono fontanieri e quindi i primissimi capi mafia di cui siamo riusciti a ricostruire la biografia di numerosi dei primissimi capi mafia sono sia poliziotti che rivoluzionari che proprietari di giardini di agrumi. O proprietari o ci lavorano poi diventeranno col tempo proprietari o sono coinvolti in qualche modo, sono guardiani. Quindi è quel nesso tra quest'agricoltura ricca, tra la violenza politica legata al risorgimento e il modello paramassonico che creano la forma mafia. Sempre in questo periodo di fine ottocento però emergono anche delle forze della globalizzazione sia nei commerci ma anche nelle emigrazioni. L'emigrazione viene considerata un grande esportatore anche dei sistemi mafiosi all'estero. Secondo te perché in certi paesi come gli Stati Uniti le mafie poi hanno prosperato invece magari in altri territori non si sono sviluppate o almeno non se ne è poi parlato così tanto come invece è stato soprattutto per la mafia americana? È una domanda molto importante e per rispondere a questa domanda bisognerebbe leggere una lettura che consiglio a tutti un libro di Salvatore Lupo uscito recentemente che si chiama Quando la mafia trovò l'America che è una storia possiamo dire transatlantica della mafia siciliana che ricostruisce l'importanza fondamentale attraverso quasi tutta la storia della mafia siciliana di questo legame, questo ponte attraverso l'Atlantico che viene costruito per la prima volta prima ancora della grande emigrazione dell'inizio del novecento quando un quinto della popolazione dell'isola se ne va negli Stati Uniti prima ancora il primo omicidio di mafia di cui sappiamo con certezza negli Stati Uniti e negli anni Ottanta dell'Ottocento a New York, gli anni Ottanta, perché ci sono questi mafiosi a New York? Perché così presto? Essenzialmente è legato a questo mercato degli agrumi perché è il mercato numero uno per le esportazioni di agrumi dal porto di Palermo, guarda caso, è New York e questi mafiosi trovano in quest'altra sponda non soltanto un posto per fare affari ma un posto per prendere rifugio, per andare a nascondersi dai nemici, dalla polizia e questi passaggi in continuazione di mafiosi attraverso l'Atlantico è partito da lì è continuo a tuttora, è fondamentale per il sistema anche per questo gli anni Ottanta le indagini di Giovanni Falcone rappresentano una svolta storica importantissima che è soltanto in quel momento lì che le autorità italiane e le autorità americane cominciano a lavorare insieme sul problema mafia Tommaso Buscetta, il famoso pentito di mafia, il cosiddetto pentito di mafia che fornisce, fa capire a Falcone e Borsellino la lingua dei mafiosi fa vedere il mondo mafioso dall'interno per la prima volta a Falcone e Borsellino è un testimone altrettanto importante per dei processi negli Stati Uniti non a caso veniva chiamato il boss dei due mondi lui lo negava sempre ma era un trafficante di droga di altissimo livello importante sia per la mafia americana che per quella siciliana tra l'altro mi fa ricordare con Buscetta il primo libro di mafia che ricordo di aver letto il boss è solo, l'intervista con Biagi ma quello che viene scritto in quel libro lo ritieni abbastanza autentico quindi oppure c'è comunque la creazione anche da parte di Buscetta di un mito della mafia no certo, Buscetta come tutti i collaboratori di giustizia aveva una sua versione dei fatti da raccontare attacciuto su molte cose importanti soprattutto sugli amici di mafia, gli amici americani i grandi trafficanti con cui lavorava è stato ha fatto passare diciamo uno dei miti più che si sentono più spesso sulla storia della mafia cioè io sono un mafioso buono dicevo trafficante, omicida nonostante questo sono un mafioso buono la mafia di per sé è una fratellanza che nasce per proteggere i deboli e fondamentalmente è una cosa onorevole sono loro i miei nemici di mafia Totorina, i Corlionesi che hanno fatto della mafia una cosa cattiva che hanno tradito i valori mafiosi io la mafia non l'ho mai lasciato non l'ho mai lasciato sono loro che hanno trasformato la mafia in qualcosa di cattiva e questa è una storia che sentiamo adesso che conosciamo meglio le fonti storiche sappiamo innanzitutto che i mafiosi nonostante il codice dell'omertà parlano sempre hanno sempre parlato con le autorità succede cioè la storia si ripete da questo punto di vista si ripete dagli anni 60 dell'800 il sistema mafia genera sempre conflitti interni conflitti soprattutto per il comando del territorio e alcuni mafiosi inevitabilmente escono sconfitti da questi conflitti e per vendicarsi e per salvarsi la pelle vanno e raccontano tutto ai poliziotti dicono ah io sono la mafia è questa è una cosa bella però loro ne hanno fatto una cosa cattiva è selvaggia c'è questo rito di iniziazione la punciuta pensavamo che Buscetta fosse il primo a raccontare questa iniziazione invece non lo era per niente adesso che conosciamo meglio le fonti storiche poi cosa succedeva? che si cominciava a fare indagini a costruire processi sulla base di queste testimonianze dei perdenti però questi perdenti o venivano ammazzati o i processi venivano in qualche modo deviati da giudici infiltrati o il pentito di turno veniva diciamo riassorbito nel mondo mafioso e si rifiutava di testimoniare davanti ad un giudice diciamo aveva utilizzato la confessione alla polizia per contrattare il rientro nel mondo mafioso con gli altri mafiosi e quindi il processo finisce con nulla di fatto le inchieste e finiscono negli archivi dove poi verranno scoperti molti anni dopo dagli storici quindi e tornano a galla in queste storie di pentiti non usavano la parola pentito all'epoca tornano a galla sempre le stesse storie la mafia antica la mafia buona che poi viene tradita dai cattivi dai vincenti di turno quindi Buscetta era un mentitore parliamoci chiaro ha mentito su molte cose soprattutto sul proprio ruolo sul proprio ruolo di trafficante di droga soprattutto però ha raccontato ha raccontato una parte di verità sui suoi nemici che ha permesso a Falcone e Borsellino di in base anche ad una documentazione finanziaria immensa in base anche ad altre testimonianze in base anche alle indagini fatte negli Stati Uniti a farci capire finalmente cos'era la mafia e non soltanto a costruire un processo di andare fino in fondo con un processo per la prima volta essenzialmente a far entrare nel senso comune di tutti l'esistenza della mafia tra l'altro questo fatto che le confessioni le delazioni non trovassero un terreno fertile ha a che fare con il concetto di cui tu parli di ecosistema mafioso e anche rispetto si parla tanto di questa mafia delle grandi personalità ma potresti parlarci meglio di che cosa vuol dire secondo te questo ecosistema sì uno dei giornalisti per carità l'Italia ha dei giornalisti validissimi a terre di mafia non solo validi, bravi ma anche incredibilmente coraggiosi per carità ma una delle banalità che molto spesso vengono a galla nei quotidiani nella versione giornalistica della storia della mafia è questa idea che la mafia si è modernizzata che la mafia non è più la mafia della coppola e della lupara non è più una mafia agricola delle tradizioni è una mafia degli affari una mafia dei colletti bianchi questa non è per niente una novità noi già negli anni settanta dell'ottocento troviamo cioè negli anni settanta dell'ottocento Leopoldo Franchetti di cui ho parlato prima uno dei primi a fare una grande inchiesta sulla mafia definisce i mafiosi del agropalermitano come faccino rosi della classe media imprenditori della violenza e già in quel periodo storico fanno parte del sistema mafioso appunto questi imprenditori del settore degli egrumi giudici poliziotti tutto un sistema un'aria grigia per utilizzare un termine che adesso va di moda la mafia è quella non arriva adesso questo sistema questa capacità di fare rete molto oltre il brutto ceffone con la lupara tuttavia anche se appunto vediamo che la mafia pur non essendo un'azienda ha sempre fatto soldi forse il denaro e la ricchezza sono stati uno dei suoi moventi principali la mafia ha anche un fattore di potere c'è questo legame potente con il potere statale ma essa stessa essere una struttura di potere e tra l'altro questo arriva anche a far sì che i grandi capi mafiosi poi vivono in quei bunker che hai fatto vedere nella serie di documentari per la BBC per cui all'apice del grande successo mafioso poi c'è una vita che ha una qualità bassissima sì no infatti è un i mafiosi hanno sono abbastanza maniacali da questo punto di vista l'attaccamento al territorio il bisogno fisiologico del capo mafia di rimanere sul territorio è una delle cose che fa della mafia una cosa distinta diversa rispetto a un'ordinaria impresa criminale la mafia non è il capitalismo armato la mafia ha moltissimi aspetti che la distinguono dall'impresa e appunto che la fanno assomigliare piuttosto a una specie di stato le mafie sono organizzate in forma territoriale governano un territorio non a caso le famiglie mafiose siciliane prendono il nome del quartiere o del paese che governano famiglia di Corleone famiglia di Partanna Mondello famiglia dell'acqua santa sono nomi che troviamo sempre nella storia della mafia siciliana il territorio è fondamentale prima ancora diciamo della parentela è il territorio la colla il ragion d'essere perché perché la mafia si costruisce un diritto un potere di prendere soldi in forma di racket in forma di pizzo sia dall'economia legale che dall'economia illegale il ladro deve pagare il pizzo al mafioso se non paga viene ammazzato nella maggior parte dei casi sono i ladri i criminali comuni che vengono ammazzati dalla mafia perché i mafiosi piuttosto che i criminali governano la criminalità questa è la loro diciamo sono anche dei grandi criminali no cioè non criminali a 360 gradi rubano a destra e manca però questa è la loro funzione principale è di governare l'illegalità anche all'interno del sistema carcerario potere delle mafie all'interno delle carcere ha una continuità storica ancora più impressionante di quella diciamo territoriale fuori del sistema carcerario quindi il ladro paga ma paga anche la vittima del ladro paga per essere protetto dal ladro nella maggior parte dei casi attraverso l'estorsione quindi un sistema perfetto che permette al mafioso di infiltrarsi in ogni singolo aspetto dell'economia di una zona e legato a questo fattore è anche il bisogno fisiologico di coordinamento della mafia perché gli affari e la mafia ha sempre fatto affari necessariamente inevitabilmente vanno oltre i confini di un dato territorio mafioso se mettiamo vogliamo se sono un capo mafia voglio prendere e storcere un pizzo sulla costruzione di un'autostrada quell'autostrada ovviamente passa attraverso diversi territori di mafia quindi mi devo mettere attorno alla tavola con altri capi mafia dei territori vicini e questo coordinamento è parte integrante del sistema mafia ed è sempre stato noi noi abbiamo trovato sempre prove di queste forme di coordinamento anche la vita politica ha bisogno di trova da crea un'esigenza di coordinamento nel mondo mafioso perché il politico si muove su un altro scacchiere che non quello del territorio dei mafiosi quindi la commissione di cosa nostra o il crimine dell'endrangheta che è il comitato di coordinamento dell'endrangheta è stato scoperto recentemente non sono come come possiamo dire il come si dice non sono come i dirigenti di un'azienda che si riuniscono sono come diciamo i giudici di una corte che si riuniscono per risolvere vertenze territoriali o contrattuali sono come una specie di parlamento anche che sono giudici anche nel senso che molto spesso possono emettere sentenze di morte su persone che hanno sgarrato per usare il linguaggio mafioso quindi la forma è diversa è più complicata più ibrida la forma mafia è più ibrida non si risolve il problema di come si definisce la mafia facendo riferimento come avevi fatto all'inizio ad un capitalismo selvaggio all'azienda armata non è così semplice ho capito bene ti faccio ancora una domanda poi passo la parola al pubblico se invece volete voi fare delle domande a John Dicchi insisti molto nel tuo ultimo libro sul boom economico degli anni 60 e sul salto di qualità che fa la mafia in quel periodo è solo una questione di crescita economica anche di struttura di relazioni sì l'Italia lo sviluppo in Italia è sempre stato abbastanza salvaggio possiamo dire è sempre successo con una mancanza di controlli di regole è sempre stato vulnerabile all'infiltrazione mafiosa quindi quando si costruiscono le autostrade quando i mercati generali i grandi mercati generali delle città vengono cioè quando c'è la crescita dei consumi alimentari dopo la guerra la mafia sta lì per intervenire quando c'è la crescita di consumo di sigarette anche questo è un mercato molto selvaggio in Italia cioè nel dopoguerra con la ricchezza si fuma moltissimo il consumo di tabacco va alle stelle e c'è il mercato del mercato nero del tabacco che è completamente in mano alla mafia alle mafie e ci sono anche i mercati tipicamente illegali quali il mercato della droga cioè il boom di consumo della droga negli anni 80 soprattutto quindi uno sviluppo selvaggio che apre le porte alle mafie bene grazie dunque se dal pubblico c'è qualche domanda possono arrivare coi microfoni così consentirvi di intervenire grazie per la per la lezione volevo fare una domanda molto semplice etimologicamente mafia andrangheta camorra che storia hanno l'etimo mafia camorra andrangheta da dove vengono e se hanno un loro significato un po' nascosto grazie magari raccogliamo due o tre domande e possiamo le risposte ho letto su alcuni studi che questo contropotere rispetto allo Stato ha anche delle origini familiari all'interno della famiglia non so se lei ha approfondito questa cosa cioè un grosso potere della donna all'interno della famiglia spinge l'uomo a cercare un contropotere all'esterno questa è la prima domanda seconda domanda la lobby inglese o un tipo di mafia inglese io pensavo i lord che sono padroni dei loro territori sono robe diverse o hanno a che fare qualcosa di simile forse forse dovrei perché c'è già tanta roba in queste due osservazioni prima di tutto innanzitutto l'aspetto etimologico ok partiamo dall'endrangheta l'endrangheta è una parola che viene dal grecanico questo questa forma di greco che si parla in aspromonte e quella parola ha l'origine diciamo più semplice dai processi degli anni venti del novecento abbiamo capito lì che gli endranghetisti stessi cominciano ad utilizzare quella parola per fare riferimento a se stessi prima si chiamavano mafiosi camoristi soprattutto o affiliati all'onorata società endrangheta significa essere maschi in grecanico e soltanto nel dopoguerra nel 55 per motivi che sarebbe troppo complicato spiegare adesso che il grande pubblico comincia a fare riferimento all'endrangheta come endrangheta comincia ad utilizzare questa parola mafia è complicata però allo stesso tempo abbastanza semplice nel senso che la mafia esiste prima della parola mafia i mafiosi stessi adottano la parola mafia quando vanno a vedere questa diciamo l'ipotesi più plausibile quando vanno a vedere una commedia una famosa commedia del 1863 che parla dei mafiosi della vicaria racconta racconta la storia di alcuni camoristi vengono chiamati per la maggior parte in questa commedia all'interno del carcere di Palermo che vengono convertiti alla causa patriotica durante il risorgimento da una figura che assomiglia moltissimo a Francesco Crispi era una commedia in dialetto siciliano molto popolare molto persino il re è andato a vederla in questo periodo e da quel momento inizia la popolarità della parola mafia che i mafiosi stessi cominciano ad adottare ok prima si parlava della setta si usavano altre parole comunque esisteva prima io sono convinto almeno camorra più complicato ancora nel senso che viene ma fondamentalmente nel sistema carcerario prima dell'unità esisteva questa forma di società segreta che poi dopo l'unità verrà chiamato comorra l'etimologia di camorra ci sono diverse ipotesi io non essendo un filologo non posso dire esattamente qual è l'ipotesi più plausibile ma essenzialmente soltanto in quel momento dopo l'unità anzi no è prima ancora dell'unità che cominciano a farsi chiamare gammoristi con la Gio camoristi però l'etimologia e la storia delle organizzazioni sono due cose abbastanza separate per capirci famiglie famiglie vabbè lasciamo stare i lord inglesi perché c'è già un'inflazione concettuale all'intorno intorno alla parola mafia che non aiuta parliamo invece della questione della famiglia che è una questione storica molto importante la mafia è in qualche modo espressione del familismo come lo ha spiegato molto bene lei io direi di no e la dimostrazione è la storia dell'andrangheta questa è una ricerca che ho fatto io recentemente gli andranghetisti quando emergono del sistema carcerale negli anni 80 dell'800 fino agli anni 20 del 900 quindi per i primi 40 anni più o meno 40-50 anni della loro storia sono tutti maniacce sono tutti lenoni sfruttatori di prostitute che è una cosa che sia la mafia siciliana che la mafia siciliana non ha mai fatto e che l'andrangheta di oggi considera disonorevole che non fa mai e infatti vediamo dalle fonti storiche e che più o meno negli anni 20-30 del 900 che l'andrangheta smette di occuparsi di prostituzione una cosa stranissima perché smettere di occuparsi di un business così redditizio dove le pene non sono poi così alte perché le mafie non si occupano di prostituzione essenzialmente non si occupano di prostituzione perché la prostituzione rappresenta il magnaccia con la prostituta che protegge ci va a letto inevitabilmente fa parte del mestiere no? ed è impossibile entrare nel mercato dei matrimoni dinastici tra capi mafia offrire la figlia sullo scacchie cioè per formare un'aleanza col capo mafia di un territorio vicino offrire la figlia in matrimonio al figlio del boss che i mafiosi siciliani hanno sempre fatto lo facevano negli anni 60 70 dell'ottocento questo diventa impossibile se non sai nemmeno se hai un figlio o una figlia è impossibile costruire dinastie e in effetti è soltanto negli anni 20-30 del del novecento che gli indranchitisti cominciano a diventare femministi cominciano a costruire dinastie a tramandare il potere ai figli e dunque cominciano a mettere a bando la prostituzione come business quindi imparano i mafiosi imparano a diventare femministi imparano ad avere costruire queste alleanze attraverso i matrimoni come facevano i re del medioevo del rinascimento i principi del rinascimento in tutta Europa e per gli stessi motivi per creare alleanze e per tramandare il proprio potere e questa è una cosa imparata quindi il familismo non diciamo nasce dopo nasce dopo è una tattica della mafia loro non sono un'espressione del familismo nella società non sono i calabresi di oggi che costringono le figlie giovanissime a sposarsi a fare figli per fare la prossima generazione di indranghetisti non sono i calabresi che fanno questo sono gli indranghetisti è una cosa una cultura specifica loro che non è della società calabresa direi che siamo giunti al termine o c'è posto ancora ultima domanda allora e così poi dobbiamo concludere buonasera dai social Bruno via whatsapp chiede una sua opinione perché ha parlato distinto coschi dalle aziende cosa ne dice della definizione della mafia come la prima azienda per fatturato in Italia beh queste innanzitutto la mafia non è un'azienda ho cercato di spiegare non è un'azienda non è e poi queste statistiche sono ahimè molto discutibili molto discutibili cioè mettere un unico è troppo complicato per spiegare ora le mafie sono molto potenti molto pericolose però spacciare questa statistica non aiuta secondo me va bene vi ringrazio e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti